Terza corsa, sono cavalli di tre anni, corsa a reclamare per 8.000 euro, sono in otto al via, 1 Burrasca LL, Salvatore Valentino, 2 Boadice Anoffa, Niello Vitaliano, 3 Brigitte Andrea Baveresi, 4 Beautiful Trio, Marco Stefani, 5 BFC Francis, Marcello Di Nicola, 6 Barbara San, Vincenzo Piscuoglio, in seconda fila 7 Brad, Andrea Vitaliano, 8 Basket Cam, Marco Basile. Vediamo Basket Cam partire al 9, un po' più largo, rinuncia al lancio, BFC Francis, veloce Boadice Anoffa su Brigitte, ma a largo di tutti è Barbara San che prende gran partenza, vediamo se riuscirà a convergere Vincenzo Piscuoglio, gli rientra però nel frattempo col 2 Boadice Anoffa che si installa al comando, Barbara San cerca di scavarsi il posto, vediamo se la manovra riuscirà, ma non sarà facile perché serra sotto Brigitte, retta di lastro, punto Vincenzo Piscuoglio va dritto sulla condiscendente Aniello Vitaliano e passa dopo 400 metri, quindi la nuova leader è Barbara San, 29 secco, quindi in vantaggio la figlia di Macho Gams su Boadice Anoffa, poi a distanza Brigitte che precede Burrasca, LL, mentre prova ad avanzare a largo Brad, intanto 600 metri in 44,6, passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio, Barbara San su Boadice Anoffa, poi Brigitte avanza, BFC Francis, mentre vediamo in coda l'errore di Basket Cam, numero 8, Basket Cam, qualificato, da Oropuro Bar, che però finisce a tabellone, quindi in vantaggio Barbara San su Boadice Anoffa, a largo BFC Francis, chilometro in 1,15, 6, 15, 6 la frazione della curva, in terza posizione sempre Brigitte davanti a Burrasca, LL, viene stappata ora Barbara San, che viene comandata, ma BFC Francis insiste a largo, retta di là, passata in 14,9, avanza l'allievo di Marcello Di Nicola, va a mettere sotto pressione la battistrada, poi lì vicino sempre Boadice Anoffa, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, sembra preminente BFC Francis, ultima curva, passata in un lento 16,3, retta d'arrivo, sempre per aver preso la meglio BFC Francis, che prende vantaggio, al suo inseguimento si pone Boadice Anoffa, ma BFC Francis viene a vincere su Boadice Anoffa, al terzo lungo la corda Brigitte, 1,16, 6, la media al chilometro per il figlio di Timoco e Softelef, Marcello Di Nicola, la guida al training, i colori di Cristian dell'Aquila, percorso esterno di BFC Francis, che viene a vincere la quota di 9,94. Grazie. 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 Grazie.